Rispondo alle domande, Testori. È meglio per lei. Hai capito che rischia da otto a vent'anni di reclusione, sì? Testori, ha ammazzato lei, Miroslav Laskovic? Se mi sbatte il processo è finito. Non me lo posso permettere. È un posto pericoloso questo. Soprattutto se non conti più un cazzo. Deve chiedere trasferimento. È l'unica soluzione. Ti vuoi liberare di me? Testori, abbiamo bisogno di te. Mi hanno chiesto di tenere d'occhio un detenuto. È una giusta causa, solo che c'è qualcosa che non mi torna. Io ho già detto che stanno cercando di incastrarti. Ma uncuso, mi dica la verità. Io lo sto dicendo, la verità. Lo sapete anche voi di innocente? Lo volete incastrare? Ma poi il problema non è l'innocenza di Mancuso. È la tua. La storia non è uno stupido. Mi state chiedendo una cosa impossibile. Bruno, non ci scherzare con questi. Mi raccomando. Crede di poter fare quello che vuole qui dentro? Anche far morire una persona? Un'altra? Non puoi metterti contro di me. Questa non è più casa tua. Questa non è più il tuo carcere. Noi siamo pronti. Ecco qui.